Ed è di Cassandra che insiste a dire che sono moralmente obbligato ad aiutarla per la presentazione della sua tesi. Moralmente perché? Lei dice che la ricerca sugli Inuit era sua, che io l'ho letta, le ho detto che non valeva niente e che poi io l'avrei pubblicata firmandola con il mio nome, che lei non era altro che una ragazzina. E poi tu non puoi morire, caro Chris, perché tu fra un anno ti devi sposare e io già ho ordinato il baccalà. Ma vedrai che ci sono alcuni funerali dove si può anche mangiare e potrai servire il baccalà lo stesso. I giovani se ne vanno perché non hanno neppure più la speranza di trovare lavoro. E allora ragazzi, guardate all'Italia da Berlino, da Mosca, da Londra, da New York, da Los Angeles. Cercate un lavoro all'estero, non è così difficile farlo. C'è una coincidenza di interessi tra il programma e i ragazzi che sono in questo momento seduti. Nel senso che il programma si è occupato di loro per mesi. È un dispiacere tutte le volte che un ragazzo esce di qua. Anche per noi. Non tutti quelli che entrano ad amici poi hanno un futuro. Vuoi come cantanti, vuoi come ballerini. Questo perché? Perché poi il futuro come cantanti o come ballerini non ve lo possiamo dare noi. Peso circa 60 kg e possiede 2.500 miliardi di globuli rossi che hanno una superficie totale di 4.000 metri quadri. La loro vita dura 120 giorni.